Siamo sul mezzo di fortuna perché stanno a prendere la macchina ma mi hanno fatto davvero un'operazione incredibile Adesso andiamo a prendere il superganzo e gli facciamo vedere che cosa abbiamo combinato Siamo arrivati È frappata? Sì un pochino Matteo perché hai fatto delle fiammate sulla macchina? La storia è molto semplice dovevamo fare una scena un po' così per una sorpresa E mi hanno chiesto se avevo voglia di fare queste strisce queste fiamme così Visto che io sono tamarro dentro ho subito accettato l'idea mi è piaciuto un casino e l'ho fatta Mi sono messo questi occhiali qua anche se non è prettamente soleggiato perché un po' mi vergogna E ora vado a prendere palu chissà che cosa dirà Un commento a caldo? Beh non è grease lighting però... Non è grease l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta... Non è grease l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta...